Quando papà fa il pusher, condannato più volte il suo forte è lo spaccio di droga, ma sul suo curriculum vanta anche una spedizione punitiva in via Firenze. Lui è un algerino che da quando è venuto in Italia ha dato molto lavoro alla polizia, polizia che a sua volta, per ricambiare, ha provato ad espellerlo. Ma niente da fare, siccome è sposato con una vicentina e ha un figlio, deve rimanere in Italia, lo dice la legge. Più di recente, per non restare con le mani in mano, l'immigrato è stato arrestato per droga dalla Guardia di Finanza. Dopo aver patteggiato un anno e mezzo, il giudice ha convertito la pena con l'allontanamento dall'Italia, ma la Cassazione ha annullato il provvedimento. Siccome la pena patteggiata non supera i due anni, la misura dell'allontanamento non è prevista. Insomma, lui sembra far di tutto per meritarsi l'espulsione, ma la legge italiana lo trattiene in tutti i modi.